Un cordiale buon pomeriggio ma soprattutto buona domenica, si inizia con una due anni solo femmine sul miglio, otto in prima, una in seconda e nove, vi è un rapporto di scuderia, due e nove, totalizzatore orientato verso Very Strong par Gaetano Di Nardo in Salchi, ma molto seguita anche Volto L'Angel, bene nell'ultima e la scuderia. A retrata vedette del Ronco numero 8, inizia a prendere velocità la macchina, con cautela Giorginio, Covurrias e si lotta per il comando, intanto vanitosa di galoppo, super partenza di Very Strong che scende nei confronti di Volto Evo e Angel, poi l'altra di scuderia, la verità. Tredici e mezzo il lancio per questa bella ideale Lewis e lunga fila indiana per la targata par al comando che va a completare il quarto iniziale da parte di Gaetano Di Nardo in salchio con questa pari in 29,8. Andatura brillante con Very Strong, poi Volto E Angel, verità, ciac, tenta la risalita vedette del Ronco. L'andatura è frizzante come la giornata, 44,5. E le cavali affrontano la penultima curva, non ammette interferenze, né sortite a largo la leader. Si va a timbrare il mezzo miglio, nell'ordine del 59,5. Si viaggia da 1,14. Solo Maisto e la sua Volto e Angel cercano di non perdere la scia della leader. Le altre per il momento appartengono a un'altra corsa. Chilometro in 14,7,15,2 di frazione. Si distende ulteriormente l'ideale Lewis e sempre due di margine su Volto e Angel. La valle che affrontano la curva finale. La frazione di fronte in 14,9, 1,29,6, tre quarti di miglio. Con il numero 8 a tabellone. Viene via bene al completamento della piegata Maione la sua voleva. Retta d'arrivo con Very Strong che deve solo far passare i metri così come Volto e Angel. E' un'ottima voleva. 7,49, Borbotta già all'arrivo della prima. Ennesima ideale Lewis, plasmata alla grande e guidata da Morgan Di Nardo. 1,59,8 per la targata par. 1,14,8. Si superano Volto e Angel. Ricordiamo aveva corso la grande con Palomba sempre a largo. Oggi c'è Blue Jeans che completa il percorso con questa bella figlia di Esploat Caf. Vole e va si supera ancora. Zola Bocco, Maione in salti. I numeri con la targata par. 1,71 in chiusura. No problem, no stress. No stress, no problem. Linea allo studio. Grazie a tutti.